Allora a possesso per l'Olimpia, Rodriguez contro Watt, si separa, scarica, palla di nuovo a lui Vediamo se segna la tripla, no, vai dentro, grande finta, scarico, Mijov da 3, per il sorpasso! L'Armani exchange avanti, 71-70, il gaffio del professore! Mamma mia il Ciaccio, la difesa di Watt innanzitutto da manuale d'antologia perché resiste al Ciaccio e rimane davanti Poi Ciappella arriva lì vicino, no, non c'è contatto